Oggi è un giorno importante e io non riesco a dormire. Ho dormito poco, quindi avrei la scusa perfetta per rimanere a letto ancora un paio di mezz'orette perlomeno. E invece no. Oggi è un giorno importante, devo comprarlo, sono deciso. Andiamo? Pronti a partire, andiamo! Grazie a tutti! Ritirare il resto Arrivederci Arrivederci Ritirare il resto Arrivederci Siamo arrivati a Udine Siamo in una nota catena di negozi sportivi che non sponsorizza questo video e quindi di cui non dirò il nome Andiamo C'è di tutto qua dentro ma io sono venuto per una missione sola una sola missione Grazie a tutti Grazie a tutti C'è di tutto qua dentro ma io sono venuto per una missione sola Una sola missione E questo è quello che devo comprare oggi Il casco è fondamentale, la sicurezza prima di tutto È lui Missione compiuta Abbiamo lo skate Abbiamo lo skate Abbiamo lo skate Di tirare il resto C'è tutto, è perfetto, è perfetto Questa potrebbe essere tranquillamente una serie nella serie Potrebbe intitolarsi tipo imparare ad andare sullo skate con Eric Perfetto E c'è solo una cosa che manca in questo momento La sigla ufficiale E io so già a cosa stai pensando Una sigla tipo telefilm anni 80 Perciò Metti like, iscriviti al canale e lascia un commento. E se siete arrivati fino a qua grazie e noi ci vediamo alla prossima, ciao!